Il Family Act vede la luce, l'assegno unico universale diventa realtà e va a beneficio di oltre 2 milioni di famiglie che finora erano rimaste escluse da ogni aiuto. Famiglie di incapienti, di disoccupati, famiglie di autonomi. Da oggi riceveranno un assegno per ogni figlio di importo mensile minimo pari a 167 euro, che sarà aumentato a partire dal terzo figlio e per figli con disabilità. I nuclei familiari che già percepivano assegni li vedranno aumentati. Il governo Draghi, grazie all'impegno della ministra Elena Bonetti, mette in campo azioni concrete per rilanciare il paese puntando sulle famiglie e in particolare sulle bimbe e i bimbi del nostro paese che rappresentano il nostro futuro.